e serve più Europa sulle pandemie. Sul tema del recovery e del next generation, quindi di un disegno complessivo che deve servire all'Italia ad avvicinarsi all'Europa in termini di produttività e quindi di competitività. Siamo partiti, il governo è partito, questo governo Draghi, con ritardo, ci si è dovuti concentrare oltre che sul piano vaccinale anche su questo. Io raccolgo il punto, è importante che il Parlamento abbia il tempo, che non sarà lunghissimo, ma il tempo utile a fare le proprie osservazioni sul piano che è una responsabilità, la presentazione naturalmente del governo. Però già litigano sulla governance, sulla cabina di regia. Adesso non abbiamo tempo di approfondire questo tema, devo dare la linea, nel senso che già con Conte era successa una cosa analoga. Vediamo come risolveranno anche il tema della governance. Però stavolta il piano ci sarà e sarà efficace. E sarà efficace, ci rassicura della vedova. Mirta, buongiorno.